Spettacolare! Ah, signora Claudia, grazie mille. Lei è sempre bellissima, davvero raggiante. Scusate, con permesso. Va pure, mio caro. Chi lo ha disegnato, questo vestito? Scusate, con permesso. Bruno, dimmi la verità. Perché ti vuoi sposare? Perché questa fretta? Smettila di pensare solamente a te. Pensa a Deliana. Non farle del male. Se non la ami, non la devi sposare. No.